Allora ragazze Io sono venuta fino da Brescia perché il Duca mi ha detto che mi faceva fare un giro spettacolare sulle Dolomini E la partenza com'è? La partenza è il ritardo Bischio, bici ragazze, bici, 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 bici Bici Allora Monta siamo in direzione rifugio Koldai Ottimo E sai perché è una cosa ottima? Perché stiamo facendo yoga, trekking, meditation A parte questo ma perché è rifugio Koldai c'è anche il lago Koldai Ed è tanta roba Dicono così vedremo verificheremo Potremmo fare il bagno? Chi lo sa? Non ci ho mai fermato questo in passato oggettivamente Tu ce l'hai lo sfido? Si inizia Ottimo ce l'ho anch'io Ottimo 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 Com'è ragazzi finora? Facile? Difficile? Troppa gente? La Priscilla non lo chiedo neanche perché è difficile? Stai iperventilando. È yoga, è yoga, è yoga. Ragazze, la realtà, non ve lo devo dire, è che Moniele ha quattro bottiglie d'acqua nello zaino. Per tutti! C'è il sapore del momento in solitudine. Dai ragazzi, è lo stroppo finale, è lo stroppo finale, poi vedrete una magnifica visione. L'ale mi odia dal profondo del cuore. Dai che ci siamo! Oh ragazzo, ma che roba è! Siamo al rifugio e lì scavalchiamo. Guarda Lisa com'è contenta, hai provato o no? Caprioli in te! Ci facciamo veramente un bombardino? Cazzo, subriachiamo. Dai dai, un bombardino e ti torna già il sorriso. Se mi dà un po' di carica sì. Allora siamo qua, abbiamo superato i rifiuti colai e l'Alessia è felicissima perché? Perché Alice ci sembra una legge di me che bella. Lago? Ah, siamo arrivati al lago! Vedi che non mento, vedi? L'avete visto in diretta il suo solito? Il nostro corso per i spazzini, il nostro corso di un pericolo. Al prossimo episodio Il nostro corso gratuito è un'occhiata. Allora ragazzi, cosa si dice? Non mi cagano, io filmo, non mi cago. Allora, finito il momento pausa, si riparte, tutti i belli coperti perché la temperatura è scesa di brutto e la Priscilla comanda il gruppo. Per il momento come la trovi? Andiamo a prendere la neve, ma è il tuo momento, vai Marco, chinati, chinati, vendi lo sacrilico. E' forte di te, non contro di me, voglio il cellulare. Quindi l'Elisa vi ha condotto sino lì nel nulla? Non contro di me, voglio il cellulare. 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 E tu? Non vuoi fregare, sta qui e hai fatto un bel scherzo, troppo lungo. Ma sei di così bella mentre ti è addormentato nel lago. Allora ci siamo divisi, il gruppo da 12 è diventato da 3, ci siamo io, monta qui e Monio davanti a noi, l'impavido Monio che non ha più le gambe, che abbiamo deciso di arrivare sino al rifugio Tissi. Gli altri che erano stanchi hanno preferito la via semplice. Il Tissi sarà fiera l'autista dei taxi perché mi ha pregato di essere assolutamente spietato di portare la comitiva su in quanto c'è il punto panoramico più bello di tutta la vallata. Ovviamente è uno strappo non male, però dopo alla fine è tutta discesa. Ci faremo un bombardino. Adesso siamo qua, belli carichi. E niente. Dai ragazzi salutiamo. Missione compiuta. Rifugio Tissi. Siamo arrivati, è stato duro. Adesso Monta è lì in arrivo. E invece Monio è arrivato proprio ora. Contento Monio di la verità che non te la saresti mai immaginato. Grande Monio, grande Monio. Un video anche a mano libera per testimoniare che noi siamo arrivati, siamo entrati, ci siamo seduti ed effettivamente comunque, guarda che qua, eccoci qua. La vista non è mica male eh. Rifugio Tissi. Adesso cosa ci facciamo? Un bombardino, una birra. Un strutte. Un strutte. Un strutte. Questa è un canale. Un bombardino, un bombardino, un bombardino, un bombardino. Allora stessi. Ragazzi ce l'abbiamo fatta. Moglo? Cosa dici? Siamo arrivati qui qua Non vuoi guardare che soffri un po' di vertigini? No, stai bene lì a posto Un po' guarda Aspettacolo